Bonjour tout le monde, bonjour, 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 ciao, 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 allora stamattina ho fatto un trucco manga, quindi occhi grandi, volevo mettere pure le ciglia finte sotto, però vabbè, poi ho detto non esageriamo, anche se qui ci ho messo troppo mascara e si sono accigliate e di qua, di no, invece vabbè, comunque va buono, vi faccio vedere il trucco, occhi grandi, mi è venuto molto caruccio, e c'è dei prodottini che sono stra felice, stra buoni, mi piacciono un sacco, quindi ve ne volevo parlare, e poi farò un altro video, allora, cominciamo, allora ho usato il primer della Focalure, Allora, qui dice il matte primer, dovrebbe essere un primer che comunque toglie l'effetto dei pori, devo dire che comunque regge anche parecchio, perché è già qualche giorno che lo testo, e qualche giorno che per l'appunto mi dura il trucco anche abbastanza, quindi oltre a minimizzare i pori, riesce anche a far durare molto il trucco, e un'altra cosa buona, che palle però, una ciglia, un'altra fa schifo, un'altra cosa molto buona, benedetta la madonna, è che non hanno un prezzo elevato questi prodotti, però devo dire che mi stanno piacendo molto, ce n'è alcuni veramente, veramente validi, Primer, poi, come base, ho preso lo Smashbox, che è quello un po' più scuro, e ci ho aggiunto il Kat Von D, e quindi è venuto una bellissima base, devo dire che sono due prodotti che messi insieme, fanno veramente, fanno veramente, veramente il loro lavoretto, Poi, dunque, come cipria, anzi no, correttori, Fit Me, che è leggermente più scuro, e quello sempre della Focalure, è molto chiaro, quindi illuminante, ed è bello coprente, devo dire che fa il suo lavoro, copre molto, quindi mi piace questo stile, molto marroncino, begiolino, mi piace assai questo trucco così, perché naturalmente c'hai un botto di roba, e c'hai il cemento nel viso, però sembra che comunque non hai grandi cose, quindi a me piace molto questo tipo di trucco, e gli occhi mi sono venuti carini, con la riga bianca, perché le ingrandisce, se al di sotto ci si fosse messo una bella ciglia, di quelle leggere, con una righetta nera, secondo me, avrebbe ingrandito ancora di più, però io ho già un occhio abbastanza grande, quindi, correttori questi due, molto validi, poi, ho fatto il Baked, con la Uda Glutti, e un prodotto che è strabuono, e mi sta piacendo un sacco, è questo, Allora, questo è il kit Contour Eyelight, ed è questo, ve l'ho già sbocciato l'altra volta, è stra, 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 stra pigmentato, però si sfuma da Dio, riesco a farci il naso molto bene, poi una volta che ho messo il correttore, ci aggiungo il bianco, anche sotto gli occhi, poi l'ho messo un po' nella palpebra, e il marrone l'ho dato leggermente vissuto, insieme alla matita della NYX, veramente, veramente caruccio, mi piace assai, è un prodottino veramente valido, e devo dire che mi piace molto, molto, sì, anche se, come... Ah già, nel naso invece, scusate il muccolo, no, anzi, nelle guanciotte, anche qua su, anche se vedete, se ne è andato parecchio, ho usato questo, che è il prodottino due in uno, quindi, marrone di qua, vedete, ve lo faccio vedere, guardate, vedete quanto è chiaro, quindi riuscire a sfumarlo molto, molto bene, è molto, molto sfumabile, poi il bianco più chiaro l'ho dato qui sotto, insieme al Baked, mi piace assai, sì, mi piace molto, perché poi non è troppo intenso, perché quelli troppo intensi, con i marroni troppo forti, si danno anche male, nel senso, poi si sfumano male, non si riesce a sfumarli molto bene, quindi si fa fatica, questo si sfuma molto bene, detto ciò, ultimi due prodottini che mi sono non piaciuti, ma qualcosa in più, sono il brush e le lomite, allora, il brush è questo, che è un colorino, il 15 Dusty Orchid, che è un colorino scuro, questo è un set da tre, o naturalmente mi sono fatta le lentiggini, è un set da tre, questo è il colore, vedete, è abbastanza scuro, però è questo colorino naturale, diciamo che mi piace un sacco, devo dire che si stende anche questo molto bene, e volevo provare a darlo anche nella riga dell'asilo, però oramai avevo fatto questo, quindi niente. Ok, e poi un altro prodotto che mi ha sconvolto è l'illuminante, perché l'illuminante in crema solitamente, quando si danno si deve poi metterci sopra l'illuminante normale, perché quello in crema non basta, questo non solo basta, spacca. Allora, vi faccio vedere, questo è il prodotto, è completamente bianco, ok, quindi per esempio se lo volessi andare a mettere qua, vedete, c'è Cristino, è molto molto bianco, e poi vedete, lo andate a togliere, che si sfuma da Dio, cioè quindi riuscite a sfumarlo benissimo, e guardate qua, che flash, quindi questo è soltanto ed esclusivamente l'illuminante in crema. Non ci ho aggiunto, non ho aggiunto l'illuminante in polvere, spacca, veramente vi piace un sacco, e c'è anche il prodottino, il contouring scuro, bellissimo. Se vi piace il trucco, magari ve lo faccio, ma è molto semplice, non è una cosa molto difficile da fare, ecco, mi sono fatta pure i capelli stamattina, e quindi sono un po' più bombolosi, bombosi. E poi sulle labbra, sempre la matita della pupa, con il lip della Guerlain. Questo lip mi piace un sacco, perché ha questo colorino molto chiaro, vedete però si formano molte righe, se non ci date, io ci ho dato appunto poi il bianco, questo qui infatti si formano meno, però ci andrebbe dato molto meglio, oramai avevo messo le ciglia, e quindi... Bambini, bambini, questi sono i prodottini. Spero vi piaccia il trucco, spero vi piacciano. Ed è un trucco un po' manga, stamani mi sento molto manga. Niente, spero che la faccetta del giorno vi piaccia, vi mando un bacio, ciao love.